Ma calma le conoscete, non sto per un po' su Gio Paolo, senza sfiorarlo, aspetta un'ora devo fare una cosa prima di dire, bravo, è fecchata la pompetta, calma, se si asma c'è l'ombre, non mi ingrifare, non me l'ho avuto, ogni tre, vi dimostreremo come passerà su Gio Paolo senza sfiorarlo con un dito, Gio Paolo mettiti dritto le braccia qua, bravo, insieme, insieme, contro la rovescia, 5, 4, 3, 2, 1, vai Cammello, io so scogliare fino a 3, mi sono perso, Cammello, 3, vai, piano piano, eh, piano piano, piano, Gio Paolo non ti muovere, non ti muovere, Cio Paolo, non ti muovere, Cio Paolo, piano piano, piano piano non ti muovere, Cio Paolo, non ti muovere, Cio Paolo, non ti muovere, Cio Paolo. Quindi, ciao... Grazie a tutti.